Una cena degli auguri di Natale, nel segno del gentil sesso e dell'importanza che esso ha nella società e nella famiglia. L'ha organizzata la FIDAPA, la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari di Alessandria, che ha scelto un momento conviviale per parlare di progetti e di impegni nel sociale. Ci occupiamo di progettazione ma soprattutto di implementare l'arte nella nostra realtà e anche tutto ciò che riguarda le donne nelle loro professioni. Abbiamo avuto recentemente la nostra Presidente nazionale che ha portato una mozione anche in Parlamento in aiuto alle donne e in aiuto soprattutto anche alla causa del femminicidio. Noi purtroppo spesso ci appassioniamo ai temi femminili giustamente anche solo nei casi di violenza contro le donne. Però il modo migliore per combattere la violenza contro le donne, il femminicidio, è di affermare una vera parità tra uomo e donna. E la vera parità si ottiene solo con un riconoscimento nelle professioni, un riconoscimento di parità di stipendio e di parità di possibilità di carriera. E per farlo l'unione fa la forza e stasera siamo qui tutte insieme anche per ribadire questo.